guarda la macchina mi piace se mi fai uno sconto di 3.000 euro perché ho visto un'altra uguale identica però è costa di meno se è troppo cara la tua anche se l'altra è anche più bella se ti ripeto se mi fai lo sconto io te la compro subito a come faccio a farti 3.000 euro di sconto cioè se hai trovato a 3.000 euro in meno a me mi sa che è una truffa però vai boh grazie prendo la tua sono veramente contento un concessionario pensa voleva 3.000 euro voleva fregare a me ma pensa a te ma che succede devo andare il meccanico e meccanico come ma dove l'hai presa sta macchina cioè a spendere 5.000 euro che hanno tirato un pacco c'è un bidone